come un po' di notare dai video passati questa rubrica sui etf mi piace sempre di più perché nello studiare per voi e per proporvi nuovi video scopro anche nuovi mondi nuove opportunità e nuove prospettive anche per i miei investimenti nella puntata di oggi come abbiamo fatto per quella scorsa andremo a cercare di capire se alcuni etf possono entrare nella voce di un investitore consapevole ci affacciamo nella giornata di oggi ad alcuni etf settoriali come sempre dal mio personale punto di vista e per cui da poter e dover valutare per lungo termine ti dico i miei pensieri e per cui le mie scelte subito dopo la sigla ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio io sono sempre pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto oggi come ogni venerdì andiamo a parlare di etf ed in questo caso andiamo ad affrontare delle tematiche che non sono né legate alla questione dell'arco temporale come abbiamo fatto nell'ultimo video né in quella geografica ma che tende a cercare di capire quali possono essere i mercati i cosiddetti mercati del futuro ecco attraverso la mia percezione personale da investitore ovviamente essendo io un semplice essere umano posso fare errori alcune volte madornali per cui queste mie scelte sono solo a scopo didattico e potrebbero anche risultare insulse nel futuro in tal caso come sempre il disclaimer è d'obbligo non prendete assolutamente queste mie valutazioni come dei consigli di investimento e tantomeno un consiglio di investire ma solo come un mio studio personale basato sul mio grado di percezione del rischio o della percezione del mercato fate sempre i vostri studi e approfondimenti mi raccomando detto questo ora basta parole e ne ho pc e partiamo con questi sei etf in realtà sono 4 più 2 molto ma molto più rischiosi e diciamo così illiquidi per cui le ho lasciate alla fine in realtà quelli che voglio proporre oggi sono 4 vedete il primo qui l'iShares Global Water andiamo a parlare subito però voglio fare appunto questa precisazione gli ultimi due sono molto più illiquidi molto meno tradati sono magari un po più giovani e per cui bisogna farci molta attenzione così come tutti questi etf che sono settoriali e vanno sempre presi con le pinze comunque ponderati in un certo modo in un portafoglio di etf in un portafoglio in generale devono essere fatti gli appositi approfondimenti per ogni etf però qui partiamo dal primo che l'iShares Global Water mi sembra di averne già parlato in passato tanto tempo fa e replica i 50 titoli azionali più grandi e liquidi in tutto il mondo beh liquidi e iShares Global Water sembra una battuta comunque che sono impegnati nell'economia idrica è un fondo enorme che ha più di 2 miliardi di aum ha una replica fisica totale ha una posizione in US dollar senza copertura valutaria è nato nel 2007 ha una politica di dividendi e distribuzione che è di tipo semestrale è un ter del 0,65% a 50 partecipazioni totali e quelle che vedete qui sono le prime 10 che vanno occupare quasi un 55% del totale delle posizioni all'interno di questo fondo American Water Works è la prima però di famose vediamo anche Geberit società svizzera, Violia, Essential Utilities che ho avuto tanto tempo in portafoglio Pentair anche questa famosissima United Utilities anche questa molto famosa a livello di ponderazioni geografiche abbiamo Stati Uniti al 44% Regno Unito 18% abbondante Francia quasi un 9,9% Svizzera 7,2% e poi adesso delle partecipazioni occupano un 20% abbondante a livello di diversificazione settorale l'industria quasi un 43,5% i servizi di pubblica utilità per cui i veri servizi idrici quelli che abbiamo in tutte le case tutti i giorni quasi un 43% informatica e materie prime legate poi anche alla fornitura o alla gestione dell'acqua secondo TF è questo qui High Shells Healthcare Innovation e questo è un indice ai stocks che replica la società di tutto il mondo che si occupano di innovazione nel campo dei servizi sanitari globali dei mercati sviluppati ma anche di quelli emergenti anche questo fondo molto grande quasi un miliardo e 4 di AOM una replicazione fisica ottimizzata in questo caso anche qui una valuta in US dollar senza copertura valutaria un ter dello 0,40% e questo ETF è una politica di accumulazione dei dividendi in questo caso le partecipazioni sono molto di più sono 193 e all'interno di questo fondo le prime 10 occupano un 13% scarso avendo una ponderazione molto bassa se parliamo di aziende quella più grande a livello di porzione in questo ETF Thermo Fisher poi abbiamo altri nomi famosi come Abbots, Intuitive Surgical, Edwards Life Senses, Blueprint Medical, BioHeaven by Pharmaceutical e così altre a livello della ponderazione geografica invece questo è molto più orientato al mercato americano con quasi un 66% di ponderazione negli Stati Uniti d'America un 5% abbondante in Svizzera un 4,5% in Corea del Sud quasi un 2,7% in Giappone poi il resto il 22% in altri paesi ponderazione molto più sbilanciata verso il settore dell'healthcare con quasi 97% poi abbiamo un 2% abbondante in informatica e un 1% abbondante in altri settori. Il terzo ETF è questo è un X-Trackers LPX Private Equity Swap si tratta di un indice che va a seguire le 25 società di private equity quotate più liquide di tutto il mondo è un fondo di media grandezza 317 milioni di euro con una replicazione sintetica unfunded per cui ha dei costi di terra come si può vedere più alti del 0,70% politica di distribuzione ad accumulazione ed è quotato in euro ed è senza copertura valutare ma ovviamente essendo quotato in euro a noi importa poco per far vedere alcuni nomi sono solo 25 ma qui diciamo andiamo a vedere i nomi principali abbiamo Apollo Global Management, Intermediate Capital, EQT, Ares Capital alcune di queste sono nel mio portafoglio personale e le ho prese direttamente senza andare su questo indice sicuramente questo ETF può andare un po' a diversificare però d'altronde se sono solo 25 già prendendo le prime 3 o 4 di questo indice si può quasi seguire l'indice tra l'altro c'è un limite di ponderazione e non ho detto società più capitalizzata di queste 25 non può superare il 15% di allocazione massima all'interno delle ETF questo giusto per dire che essendo poche società comunque si cerca di portare un limite percentuale alle società che sono presenti all'interno di questo ETF quarto ETF Amundi S&P Global Luxury e questo è uno di quegli ETF che mi piace molto perché va a seguire il settore del lusso un settore che non ho mai conosciuto crisi è un ETF abbastanza medio come grandezza non è piccolino ma non è neanche grande però costa poco pur essendo a replica sintetica infatti ha un TER dello 0,25% pur avendo una replicazione sintetica unfunded swap ha un fondo di circa 335 milioni di euro al momento è quotato in euro quindi non ha copertura valutaria è una politica dei dividendi all'accumulazione visto che sul sito di gesta etf non viene riportato niente su quelle che sono le posizioni principali ho deciso di aprire il sito dell'emittente e scaricare questo documento che è il monthly fact sheet relativo al mese di febbraio del 2022 vediamo che questo indice include 80 titoli quelli a maggiore presenza all'interno dell'indice questi qui sono Louis Vuitton, Monenesi, Richemont, Tesla, Kering, Estelle Odeur, Mercedes-Benz, Hermes International, Diageo, Pernod Ricard e Nike che coprono quasi un 59% di ponderazione dell'indice dal punto di vista della ripartizione geografica abbiamo quasi un 38% negli Stati Uniti, quasi un 24% in Francia poi abbiamo un 10,5% in Germania e poi via tutte le altre nazioni l'Italia è presente con un 5,5% la ripartizione settoriale è su beni ciclici quasi un 83% e i beni non ciclici quasi a un 18% adesso che abbiamo presentato questi 4 etf passiamo agli ultimi due che sono quelli un po' più chiosi e per i quali ovviamente vado ancora meno nel dettaglio perché è un qualcosa che dovete studiare voi non voglio che già i primi 4 non devono essere presi come un consiglio di investimento ma questi due men che meno il primo etf è il First Trust IPO Ex Europe Equities è praticamente un indice che replica le 100 aziende più importanti europee quotate di recente che per cui hanno avuto un IPO in tempi recenti è un etf vediamo così piccolissimo è nato da pochi mesi 2 milioni di euro solo di dimensione del fondo una replicazione fisica totale e una valuta in etf senza copertura a un tell dello 0,65% una politica di distribuzione che è accumulazione ovviamente essendo quotato a poco è inutile anche andare a vedere i rendimenti a breve vi faccio vedere quando è stato quotato però qui volevo farvi vedere quelli che sono le ultime IPO per cui le ultime aziende inserite in questo etf abbiamo Siemens Sliners, ADNNV Ord, ProSoon, Prosus, Pernori Card Ord, NatWest Group PLC e così via in totale sono 100 partecipazioni e le prime 10 occupano un 40% di allocazioni in questo etf i paesi sono Regno Unito quello maggiormente identificato in questo etf con un 15,5% il 13,3% nei paesi bassi, quasi un 13% in Germania e poi un 9% abbondante in Svezia il restante 49% è allocato ad altri paesi a livello di settori abbiamo la salute con un 15,5% i beni volutuali un 14,5% informatica 12% e industria il 10,2% tutto il resto dei settori occupa quasi un 48% come si può vedere questo etf è nato solo al fine del giugno del 2021 per cui non ha neanche senso andare a vedere i rendimenti in questo frangente però comunque è un'idea che volevo dare come un qualcosa che secondo me potrebbe essere visto e molto interessante per il futuro nel settore degli etf passiamo all'ultimo, il Global Ex Fintech ad accumulazione questo etf va a seguire l'indice Global Fintech Tematic che replica società di tutto il mondo che usano la tecnologia per offrire servizi e prodotti finanziari Fintech anche questo etf è piccolissimo, 2 milioni di euro di fondo una replicazione fisica totale in questo caso è quotato in dollari senza copertura valutaria politica di distribuzione all'accumulazione è un tell dello 0,60% anche questo quotato da pochissimo, come si può vedere year to date un meno 17% però questo è ancora più nuovo rispetto a quello che abbiamo visto prima perché è nato, come si può vedere qui, solo a novembre, fine novembre del 2021 per cui ha pochissimi mesi di vita e anche in questo caso secondo me non ha senso andare a vedere gli rendimenti in questo periodo perché è nato talmente da poco che non avrebbe senso soprattutto è nato a cavallo di un'invasione siccome è un etf nuovissimo andiamo anche in questo caso sul sito dell'emettente per andare a vedere quelle che sono le holdings che non vengono presentate su GSTF le possiamo vedere qui BlockInk, IntuitInk, P-ServInk, ADNNV, Bill.com Holdings, SS Technology, Fidelity National, Coinbase, Xero e Kakao Pay per quanto riguarda la diversificazione per settore abbiamo l'Information Technology ovviamente essendo Fintech non poteva essere antimenti quasi un 75% quasi un 16% in Financial e poi tutto il resto dei settori a livello di diversificazione geografica abbiamo un 68% negli Stati Uniti quasi un 7% nei Paesi Bassi un 3,5% in Cina, un 3,3% in Corea del Sud Nuova Zelanda quasi un 3% e poi tutte le altre nazioni bene, come ho detto i primi 4 sono un po' più anzianotti come me questi ultimi 2 sono molto nuovi e molto più rischiosi detto questo ritorniamo al mio bruttissimo faccione per le ultime considerazioni bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video dammi le tue impressioni su questi ETF ne conoscevi qualcuno? ne utilizzi già qualcuno? oppure ne hai qualcuno in watchlist? spero di avere il tuo feedback qui sotto e di poter avere da parte tua un contributo per tutta la community per farci crescere tutti insieme cerchiamo di aiutarci a vicenda con tanti commenti scambiandoci delle opinioni e aiutandoci a crescere vicendevolmente mi piace sta parola, la dico sempre adesso come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di youtube e se sei nuovo su questo canale ovviamente se passavi di qui iscriviti e clicca la campanella delle notifiche affinché tu non possa perderti nessun contenuto successivo oggi è venerdì e come sempre è l'ultimo video della settimana e per cui noi ritorniamo lunedì prossimo con una nuova puntata di Buonanotte a Mercati per riniziare una nuova settimana editoriale ti auguro un felice weekend e noi ci vediamo lunedì prossimo ciao 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 ciao